Adesso, come abbiamo detto, essendo venerdì, torna il weekly curato da Barbara Passerini. Cari amici del weekly, bentornati a un altro dei nostri calendari, quelli che ci raccontano cosa succederà questa settimana nei teatri abruzzesi. Ecco, partiamo subito dalla prima scheda che il nostro weekly ci presenta proprio oggi. Una scheda che riguarda uno spettacolo eccezionale perché si tratta della grande opera. La Turandò, l'opera lirica di Giacomo Puccini, sarà sabato 2 dicembre ad Avezzano al Teatro De Marsi alle ore 21 e domenica 3 dicembre alle ore 17 invece a Sulmona al Teatro Maria Caniglia. La Turandò, in questo caso a cura dell'Ateneo Internazionale della Lirica, verrà portata in scena con l'Orchestra delle Terre Verdiane di Parma, diretta dal maestro Stefano Giroli, e per Avezzano in scena il coro dell'Opera di Parma, diretta dal maestro del coro Emiliano Esposito, maestro concertatore e direttore Stefano Giaroli e la regia di Alessandro Brachetti. Una particolarità, una curiosità che riguarda invece la proposta a Sulmona al Maria Caniglia della Camerata Musicale Sulmonese perché il coro delle Voci Bianche previsto nell'Opera Pucciniana a Sulmona sarà composto da 19 ragazzi degli istituti medi della Valle Peligna, il Serafini e il Capograssi ad indirizzo musicale che quindi saranno in scena, per loro sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile quella di poter calcare le scene insieme a dei veri professionisti in un'opera così importante. Loro saranno diretti dalla maestra del coro Anna Galterio. Ricordiamo l'appuntamento sabato 2 dicembre alle ore 21 ad Avezzano al Teatro dei Marsi e domenica 3 dicembre alle ore 17 al Teatro Maria Caniglia di Sulmona. La prossima scheda sempre parla di musica. Il titolo di questo concerto è Da Paganini a Piazzolla. È proposto sabato 2 dicembre alle ore 18 all'Aquila ridotto del Teatro Comunale Antonellini dall'Istituzione Sinfonica Abruzzese che proprio programma questo concerto di Ettore Pellegrino al violino e Gianluca Persichetti alla chitarra. Da Paganini a Piazzolla chiaramente è un omaggio, un invito al viaggio sulle corde della chitarra e del violino per questi due musicisti di primo piano a livello nazionale e non solo anche internazionale. Ci propongono un interessante percorso nelle sonorità degli strumenti a corda attraverso i secoli e attraverso le culture sabato 2 dicembre alle ore 18 all'Aquila al ridotto del Teatro Comunale Antonellini. Ancora musica, ancora musica per la terza scheda del weekly di questa settimana. Sabato 2 dicembre alle ore 17.45 a Prato La Peligna al Teatro Comunale d'Andrea e poi domenica 3 dicembre alle ore 17.30 a Teramo all'Auditorium Santa Maria Abitetto l'orchestra da camera Benedetto Marcello in questo caso ci presenta miti tra metamorfosi e letteratura. Ubaldo Rosso sarà i flauti, i tuoni, i tamburi, i viola da gamba e Elena Zegna sarà la voce recitante per questo spettacolo concerto che parla di mito, di mito in letteratura mito in musica in particolare per la letteratura si leggeranno brani di Ovidio, Lorenzo il Magnifico e Cesare Pavese per un escursus attraverso gli anni e i periodi storici mentre per quanto riguarda la musica Telemann, Ibert, Bernier e Debussy saranno i compositori che daranno vita a questo spettacolo ricordiamo miti tra metamorfosi e letteratura al Teatro d'Andrea di Parato La Peligna domani sabato 2 dicembre alle 17.45 mentre domenica 3 dicembre alle 17.30 a Teramo all'auditorium di Santa Maria Abitetto ancora un appuntamento per il fine settimana quindi un fine settimana ricchissimo veramente non si può rimanere a casa perché bisogna andare a godere del teatro e della musica in questo caso si tratta di teatro teatro contemporaneo a Pescara al Florian e Space per la stagione del Florian Meta Teatro sabato 2 alle ore 20.45 domenica 3 alle ore 17.30 appunto al Florian e Space nessun elenco di cose storte si tratta di un progetto drammaturgico di Oscar De Summa un autore tra i più apprezzati della scena teatrale contemporanea in Italia in scena Sandra Garuglieri la regia è di Oscar De Summa si tratta di un giallo un giallo che si propone in maniera ludica di scoprire insieme allo spettatore chi è che ha ucciso la morte quindi interrogativi sicuramente sul rapporto che ognuno di noi ha con la terribile falciatrice sabato 2 alle ore 20.45 domenica 3 alle ore 17.30 nessun elenco di cose storte al Florian e Space di Pescara adesso ci interrompiamo solo per pochi minuti ma non ci interrompiamo perché in realtà c'è questo importante contributo dalla regia mi raccomando non cambiate canale perché si tratta di un progetto un progetto interessante si chiama diversamente Grez progetto o anche Grez progetto ideato dalla professoressa Paola Salvatore dell'Istituto di Popparozzi di Teramo coinvolge gli studenti delle scuole superiori ma non solo della provincia terramana e mira alla valorizzazione della cultura abruzzese e soprattutto direi all'inclusione di chi dei ragazzi con bisogni speciali quindi questo progetto che unisce cultura abruzzese ragazzi e soprattutto anche istituti scolastici grandi professionisti anche dello spettacolo ma vediamo ce lo dice direttamente lei Paola Salvatore il progetto nasce su richiesta degli studenti rimasti soddisfatti dell'esperienza dell'anno scorso a Sanremo dove abbiamo avuto siamo stati l'unica scuola ad aver avuto una menzione speciale a livello mondiale abbiamo pensato quindi a un musical e a seguito della notte dei serpenti condotta da mio cugino Enrico Melozzi abbiamo deciso appunto di fare questo musical e di fare i dialoghi in versione dialettale in dialetto terramano siamo ancora in fase di studio dei ragazzi perché ognuno di loro ha dei talenti nascosti e quindi magari un ragazzo ci dice che sa solo ballare in realtà sa anche cantare o viceversa e stiamo scovando anche possibili diciamo tra virgolette attori perché tra loro ci sono dei personaggi appunto predisposti a a recitare questo è un progetto inclusivo quindi abbiamo accolto tutti i ragazzi e stiamo vedendo in base alle qualità come comunque collocarli se nell'ambito della recitazione del canto o del ballo ci sono anche ragazzi abbiamo scoperto che sanno suonare degli strumenti tipo il pianoforte l'organetto e quindi vorremmo sfruttare anche queste qualità all'interno dello spettacolo che sarà volevo ricordare contornato diciamo da un cantastorie roppopo per poter far questo mi sono dovuta comunque affidare perché io sono un'insegnante a delle professioniste e quindi mi sono affidata a Cristina Tritella Marina Salvatore che hanno una scuola appunto di musical dietro le quinte eccoci tornati da questo contributo di diversamente Grez lunedì invece passiamo alla prossima scheda lunedì 4 dicembre alle ore 21 a che servono questi quattrini beh questa è un'opera una commedia di Armando Curcio in questo caso per la regia di Andrea Renzi con Nello Masce e Valerio Santoro è una commedia che è andata in scena per la prima volta nel 1940 quindi tanti anni fa ma il soggetto e l'oggetto di questa di tutto la trama dell'opera rimane un soggetto assolutamente attuale anche ai giorni nostri i quattrini e il valore totem del denaro nella nostra società è esaminato chiaramente con la verbo comica che poi fu anche portata in scena dalla compagnia di Edoardo De Filippo dei fratelli De Filippo e riscosse un enorme successo all'epoca ma un successo che dura anche ai nostri giorni a che servono questi quattrini passiamo alla prossima scheda martedì 5 dicembre mercoledì 6 alle ore 20 e 45 al Tosti di Ortona al Teatro Comunale Tosti di Ortona Chiara Francini Alessandro Federico per questa stagione al Tosti noi siamo anche andati con i nostri incontri sulla scena proprio questa settimana a incontrare Andrea Pennacchi ma vi invitiamo ad andare a vedere questo spettacolo coppia aperta quasi spalancata con Chiara Francini Alessandro Federico e diciamo si ripropone ormai lo spettacolo cult della coppia indimenticabile di Dario Fo e Franca Rame uno spettacolo che così in maniera scansonata però indaga quelle che sono le dinamiche di coppia e così si ride e non solo delle appunto delle dinamiche e di ciò che la coppia in realtà costruisce a volte dentro di sé senza neanche rendersene conto andiamo avanti con la prossima scheda che è anche l'ultima giovedì 7 dicembre alle ore 18 a Lanciano al Teatro Fenaroli il concerto del vincitore della 32esimo edizione del concorso pianistico internazionale casa grande Beethoven romantico young young fan della Gran Bretagna accompagnato dall'orchestra dell'istituzione sinfonica abruzzese diretta dal maestro Marco Boni le musiche saranno quelle di Ludwig van Beethoven per questo ragazzo che in giovanissima età vince questo importante concorso pianistico e le cui doti chiaramente sono assolutamente e diciamo da tutti ritenute enormi quindi andiamo a sentire Young Johan Fan al Lanciano al Teatro Fenaroli giovedì 7 dicembre alle ore 18 con questa ultima scheda cari amici del weekly io vi saluto come sempre vi invito a comprare un biglietto e andare a teatro in questo weekend i teatri sono pieni di proposte ricordiamo come sempre che il nostro weekly è una selezione di alcune delle tantissime proposte che il territorio abruzzese e i suoi teatri ogni giorno ci propongono grazie a tutti e alla prossima al prossimo weekly grazie